Strategia Digitale. Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online. E business online. A cura di Giulio Gaudiano. Bentrovati da Giulio Gaudiano e benvenuti in una nuova puntata di Strategia Digitale. Oggi scopriremo un succulento souvenir digitale, fornitomi, messo a mia disposizione, da Francesco Richichi, uno di voi ascoltatori, un produttore ormai storico di Strategia Digitale. Che cos'è però un souvenir digitale? Per capire, magari è la prima volta che passi da queste parti, ti suona strano. Bene, un souvenir digitale è una roba, un contenuto, un software, una tecnologia, un servizio, un'applicazione, un gadget proveniente dal mondo digitale con il potere di cambiare in meglio il nostro viaggio di business nel mondo digitale, cambiare in meglio la nostra vita o il nostro lavoro nel mondo digitale. E direi che questa volta questo souvenir cambia in meglio sia la vita che il business. Perché è un TED Talk di Tania Minon, una professoressa e psicologa, come si dice? Organizational psychologist, psicologa organizzazionale della Università dell'Ohio. Un TED Talk dove si parla di relazioni, di opportunità, di relazioni, di opportunità che si nascondono all'interno della relazione che non abbiamo ancora creato, della persona che non abbiamo ancora incontrato. Prima di entrare nel vivo del nostro souvenir, voglio ricordarti che tutti i souvenir digitali sono contenuti all'interno di una playlist che trovi su strategiadigitale.info. E' quello il nostro punto di ritrovo online. Quindi non ti sbagliare, vai su strategiadigitale.info e condividilo pure con i tuoi amici, così gli fai un bel regalo. Ma ora ragazzi, bando alle ciance, è arrivato il momento di scoprire insieme il nostro souvenir digitale. Il souvenir digitale Il souvenir digitale Quando l'ho ricevuto questo link ho detto Ma sarà, boh, non lo so, uno di quei TED Talk così un po' carini, però niente di particolare. Invece ho iniziato a guardare questo TED Talk e mi ha letteralmente fulminato. Perché mi ha fulminato? Perché esprime, dal punto di vista teorico, scientifico, quello che io ho potuto toccare con mano e che mi ha spinto a portare in Italia lo Smart Networking. Questo format di eventi di networking strutturati dove in una forma giocosa, come un vero e proprio gioco un po' come lo speed dating, gli appuntamenti al buio organizza il contatto e la nascita di relazioni, anche molto brevi, con un gran numero di persone in un piccolo lasso di tempo. In ogni evento Smart Networking, in un'ora, un'ora e mezzo di evento, si incontrano 20-25 persone e ognuna possiamo stringere la mano, dare il nostro biglietto da visita, prendere il suo biglietto da visita e conoscere da zero una persona che assolutamente non avevamo mai conosciuto e che forse non avremmo mai conosciuto nella nostra vita quotidiana, nel nostro business, nella nostra cerchia di relazioni. E questo effetto di conoscere così tante persone, di conoscere persone alle quali non avresti avuto accesso in condizioni normali e tutto ciò che ne deriva per me è sempre stato qualcosa di eccezionale. Quando l'ho provato per la prima volta non ho potuto più smettere e per questo, appunto, l'ho voluto portare e diffondere in Italia e sono molto contento di vedere come in Italia comincia a crescere la community Smart Networking e cominciano a emergere dalla community altri organizzatori. Penso per esempio a Chiara Cirinna per il Lazio, a Giancarlo Spano che ne ha organizzato uno in Sardegna che apre gli Smart Networking in Sardegna, il primo organizzatore sardo. Ecco, qual è questa base teorica? Qual è questa idea contenuta nel web talk che così mi è piaciuto? Beh, l'idea è che ci sono dei legami forti nella nostra vita, delle relazioni forti con i nostri familiari, i nostri migliori amici, le persone che ci vivono intorno, i nostri vicini di casa, i nostri colleghi più stretti. Sono legami forti, ma si è visto studiando come le persone trovano delle opportunità di business, come le persone trovano lavoro, come le persone trovano la strada per avviare un progetto professionale, si è visto che in realtà i legami che hanno più potenzialità, che portano più opportunità, sono i cosiddetti legami deboli. Sono delle relazioni con persone che magari conosciamo da pochissimo tempo, che conosciamo magari poco, ma che ci danno accesso alla possibilità di realizzare qualcosa dal punto di vista business. Quindi se è vero che il nostro migliore amico è una persona unica che non potrà mai essere rimpiazzata, dall'altra parte molte volte chi ci fa trovare lavoro o chi ci porta del business non è nostra zia, il nostro migliore amico, il vicino di casa, ma sono persone in ambiente business che conosciamo al di fuori della nostra cerchia sociale. Infatti è questo il motivo per cui il titolo di questo talk è il segreto delle grandi opportunità è la persona che non hai ancora incontrato. Allora, se è vero che la persona che non ho avuto ancora l'occasione di incontrare può essere per me un'opportunità di business, devo capire prima di tutto con chi devo stringere queste relazioni, con chi è che devo ancora incontrare. Ecco, questa è la prima idea. Noi tutti ci circondiamo di persone che sono affini a noi, addirittura oserei dire simili a noi, simili a noi per gusti, per formazione, per abitudini di vita. E questo ci chiude anche, potremmo dire, in una bolla percettiva in cui la nostra idea del mondo, la nostra visione del mondo lì fuori è allineata con la visione del mondo delle persone che ci stanno intorno e che quindi rischia però di essere parziale, perché basta uscire un po' da questa cerchia e potremmo incontrare persone che apparentemente non hanno niente a che fare con noi. Quando è che succede questo? Solo in alcune occasioni, per esempio se facciamo un viaggio in treno o in aereo, ci sediamo accanto a una persona con la quale potremmo non avere nulla in comune e quella persona così distante da noi ha il suo universo, la sua visione del mondo e la sua rete sociale. È una grandissima opportunità poter entrare dentro una rete sociale. Io dico sempre quando vedo su LinkedIn qualcuno che è a tre gradi di separazione da me, sai che su LinkedIn per ogni persona puoi vedere se è del tuo, del network di primo livello, del network di secondo livello, cioè la persona conosce una persona che tu conosci, oppure del network di terzo livello, cioè c'è bisogno di più step per arrivare alla vostra conoscenza, cioè per arrivare a persone che conoscono l'uno o l'altro. Bene, quando incontro e stringo una relazione con una persona che è nel mio terzo livello io sono particolarmente contento. Perché? Perché vuol dire che sono entrato in contatto con qualcuno che dal punto di vista sociale, della prossimità sociale, è molto lontano da me. È molto lontano da me ma ha reso in quel momento più vicine tutte le persone che fanno parte della sua rete sociale. Allora è importante, ci può aprire la mente e aiutare a cogliere queste opportunità e incontrare persone e stringere relazioni con persone che non hanno affinità con noi, che non hanno niente a che fare con noi, che non ci assomigliano, che non la pensano come noi, che votano in maniera diversa, che hanno fatto studi diversi. Questo incontro può essere originatore di una ricchezza enorme ed è proprio questa l'idea che sta dietro Smart Networking, dove incontri tante persone diverse tra loro e questo bombardamento di punti di vista diversi, di sensibilità diverse ti porta una grande ricchezza, oltre che una grande sollecitazione emotiva. Dove si possono incontrare queste persone? Pensa che io per anni ho frequentato la stessa parrocchia di mia moglie, di quella che è mia moglie, senza conoscerla, ma per più di dieci anni. E quando l'ho incontrata la prima volta mi sono avvicinato a lei e le ho detto «Scusa, ma tu sei di questa parrocchia?» E lei mi ha risposto «Sì». «Ma io non ti ho mai incontrato?» E lei mi ha risposto «Vabbè, non ci saremmo mai incontrati». Ecco, questo la dice lunga su come in realtà non basta condividere il luogo. Il fatto che io vado in un certo luogo a una certa ora, noi siamo estremamente ripetitivi, passiamo sempre per le stesse strade, facciamo le stesse cose, prendiamo il caffè nello stesso punto. Ecco, mi ricordo un'altra esperienza, è stato dentro il business center ad Adelaide in Sud Australia, il business center dove andavo a lavorare, io facevo tutti i giorni le stesse cose. C'era il bagno del mio piano e andavo sempre in uno specifico bagno, prendevo il caffè sempre allo stesso tavolino, mi mettevo sempre nella stessa postazione, facevo tutto sempre negli stessi orari. È bastato una volta cambiare leggermente i miei orari per incontrare persone diverse e agli eventi di networking del business center mi capitava spesso di dire, scusa ma tu lavori in questo business center? Sì, ma dove? Di là. Ma io di là non ci sono mai passato. Eh vabbè, siamo a pochi metri di distanza, ma non ci siamo mai incontrati, solamente perché io faccio sempre la stessa strada per passare all'interno del business center. Quindi per incontrare persone nuove dobbiamo frequentare dei luoghi nuovi e dei luoghi diversi. Può essere un'idea un pochino stravolgere le nostre abitudini, stravolgere i nostri orari, provare a prendere il caffè un'ora prima o un'ora dopo o in un bar diverso. Oppure, come succede per gli eventi di smart networking, partecipare a eventi di networking dove si possono incontrare delle persone o come fa il mio amico Luca Lamesa una volta all'anno partecipare a un evento di formazione in un ambito totalmente estraneo, totalmente al di fuori dal tuo ambito professionale. E poi quando è il momento giusto per incontrare nuove persone e creare delle relazioni? Bene, qua secondo me arriva il punto più interessante del talk di Tania Minon. hanno studiato il fatto che quando noi siamo in difficoltà, quando abbiamo un problema, uno stravolgimento, quando ci sentiamo deboli, esposti, minacciati, in difficoltà nella nostra vita, reagiamo in maniera diversa alla possibilità di aprire nuove relazioni. Hanno differenziato il campione di studio tra persone che hanno scarsa educazione, diciamo un profilo sociale basso e persone che hanno un profilo sociale alto, sia in base alla formazione, sia in base allo stile di vita, al reddito, al tipo di mentalità. E cosa è uscito fuori? Persone appartenenti a una fascia sociale di tipo bassa, quando in condizioni normali sono più socievoli, cioè tendono a stringere più relazioni con altre persone, ma nel momento in cui si sentono minacciate, nel momento in cui si sentono in difficoltà, tendono a chiudersi. Sicuramente ti sarà capitato di avere un amico che in un momento difficile della vita, invece che trovare a cambiare strada, a incontrare nuove persone, cambiare cerchia sociale, cambiare abitudini, si è chiuso in se stesso e è andato lì a tagliare delle relazioni. Magari proprio con te che eri in contatto con lui, di colpo l'hai visto sparire. Ecco, dall'altra parte invece persone con un alto livello di formazione, persone potremmo chiamare di successo di una fascia sociale alta, come reagiscono alla difficoltà, al periodo di destabilizzazione, al periodo di crisi? Ecco, potremmo dire al periodo di crisi reagiscono creando molte più relazioni del solito, aprendosi molto di più alle nuove relazioni e aprendosi alle nuove relazioni, aprendosi anche, si aprono anche alle nuove opportunità. Siamo arrivati alla fine di questo episodio, io ti metto naturalmente il link al TED Talk nelle note dell'episodio, ci puoi fare click e vedertelo, te lo consiglio. E voglio ringraziare di cuore Francesco Ricchichi per avermi segnalato questo talk. Francesco è un appassionato partecipante agli eventi Smart Networking, anzi, io invito tutti voi che mi state ascoltando ad andare su smartnetworking.it e a registrarvi nella lista d'attesa per essere invitati ai prossimi eventi. Ce n'è uno questa settimana a Roma, la prossima settimana appunto in Sardegna, metto qualche link in descrizione in modo che se siete interessati a partecipare a eventi smart networking e ad allargare la vostra rete di contatti e di relazioni, potete farlo in maniera semplice partecipando a questi eventi che sono veramente una gran figata. E allora, grazie mille Francesco Ricchichi, grazie a tutti i produttori di Strategia Digitale, grazie a Odra Bertolone, coautrice del programma, al nostro fonico Costanza Mineo e a Radiospeaker.it per il sound design. Ragazzi, grazie mille e alla prossima! Strategia Digitale Idee, novità e consigli per imprenditori e professionisti appassionati di web marketing e business online e business online a cura di Giulio Gaudiano